Savio, quanti avvocati bassanesi siedono nel nuovo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza, quello che ha inglobato Bassano? Nessuno. Ma come mai? È uno dei motivi per cui non mi piaceva l'accorpamento tra Bassano e Vicenza. Siamo troppo diversi e Vicenza ci considera inutili. Vicenza ha fatto un po' l'assopigliatutto in queste elezioni, tra l'altro si era proposto anche di allestire un seggio qui a Bassano, invece non c'è stato niente da fare. Sì, la decisione è stata meditata, non è stato un errore, uno sbaglio, una strana coincidenza. Nel momento stesso in cui Vicenza decida di fare due giornate di voto, tutte e due a Vicenza, invece poteva farne fino a 3-4, non poteva decidere come voleva, poteva fare un seggio a Bassano, nel momento in cui ha deciso questo, ha deciso che il Consiglio dell'Ordine di Vicenza sarà fatto solo da Vicentini. Che cosa comporta questo per voi, questa votazione? Diciamo che questa elezione dimostra che per i prossimi 4 anni, perché 4 anni durerà la consigliatura, il peso degli avvocati Bassaneggi sarà uguale a zero. Lei è più arrabbiato, deluso o comunque se l'aspettava? Me l'aspettavo, ma non in questi termini. Quindi contavo che ci fosse un po' più di serietà da parte del Consiglio uscente e quindi anche una presa d'atto che stava succedendo qualcosa di straordinario, cioè un Consiglio dell'Ordine veniva soppresso e tu lo accorpavi e io pensavo ci fosse un po' più di rispetto per l'altro Consiglio dell'Ordine. Non solo non ce n'è stato un po', non ce n'è stato proprio rispetto. Grazie.